eccoci qua martedì 5 settembre 2017 dopo la gran buttata arriviamo in ritardo ma vabbè dai ci si prova questo ha trovato il lori anche bellino perché l'ha trovato la giaci lori freschissimo giaci buono scarsa scarsa la mattinata bello lori bello bel porcinello dai bravo proprio fresco bene uno anche la nonna speriamo perché è magrissima si sono fermati proprio lori dalla strada altrima è mezzo andato vabbè dai lori com'è andata stamattina abbastanza male uno schifo totale data male giaci tutto fermo si sono divertiti gli altri infatti vabbè dai mangia eccoci qua giaci com'è bello martedì 12 settembre iniziata la scuola ti hai proprio dato una randellata si ho picchiato giù la racchetta ma che bello te ha che pancione nonna ma impressionante ti rischia così li voglio oggi e certo dai avanti stavo perdendo le speranze dopo il primo bello della giaci cacchio mezz'ora senza trovare niente e adesso mi compare lui in un posto dove non ho mai cercato praticamente bellissimo fantastico e però ragazzi se siete sotto terra ditelo perché così non va bene anche questa fungaia qualcosina da dai sfigatello sono niente quest'anno i funghi hanno deciso di uscire di sabato giorno fisso della settimana quando vengo io niente va bene ditemi voi non so se riesco a toglierlo ci vorrebbe una motosega qua un geometra d'acqua qui piatto piatto contro la roccia qui la radice ma che roba tutto piatto e mentre lo pulivo la giaci ha avvistato questo niente oggi crescono così sotto i sassi cacca miseria cosa fai qua da solo te vieni a casa con ledo dai che bello bellissimo dai speriamo ancora qualcuno perché è magra cos'è già c'è l'ultimo è anche bello e insomma mezzo mangiato non fa niente quello lì sotto brava giaci piccoletto ma va bene va bene è l'ultimo giaci si promesso si si è l'ultimo va a cade l'ultimo andiamo a casa ciao a tutti ciao a tutti